Oggi facciamo un po' di recensioni di prodotti in test, facciamo la heavy rotation di alcuni bei prodottini che sto utilizzando molto in questo periodo e cominciamo subito! Ciao, io sono Laura e oggi vi ripropongo il format del heavy rotation che io ho visto per la prima volta e che penso si sia inventata lei, da Carolina Bonanni, la mia amica caro. L'heavy rotation che cos'è? Sono i prodotti che per un motivo o per un altro, perché stanno in smaltimento, o perché sono in test o perché ci piacciono moltissimo, sono molto utilizzati, quindi come l'heavy rotation che una volta c'era su MTV o perché è di Roma o del Lazio su Radio Rock, i prodotti in heavy rotation sono quelli che più vengono utilizzati e su cui in qualche modo abbiamo qualcosa da dire. Parto subito col botto perché voglio parlarvi della Muerte Palette di Melt. Allora, io avevo ordinato la Muerte, al di là del fatto che la volevo da quando è uscita, è questa meraviglia qui, è uscita ormai penso nel 2019 e nel 2020, poi è andata fuori di produzione ed è ritornata recentemente. Io l'ho comprata con gli ordini, con l'ordine del Black Friday che ci ha messo, se vi ricordate, due mesi ad arrivare, non so se ve lo ricordate ma ve lo dico io, e quando è arrivata ero molto curiosa di provarla. Perché? Perché quando è uscita questa palette, in realtà anche qui su YouTube Italia, c'era stata un po' di, non voglio dire maretta, però di sicuro delle opinioni contrastanti su questa palette. Le polveri di Melt sono delle polveri difficili, le abbiamo usate svariate volte su questo canale perché io in realtà le apprezzo particolarmente, sulla mia palpebra funzionano abbastanza. Questa è una palette su cui c'è stata parecchia polemica, perché questi, ops scusate non volevo accecarvi, questi colori sono talmente pigmentati che diventano veramente difficili da gestire anche per chi di solito sa gestire le palette di Melt o quelle comunque super pigmentate. Io pensavo, devo dire, che fosse più una cosa di immagine, cioè andare contro un brand come Melt può essere una cosa che fa tornare anche dei, come dire, delle visualizzazioni. Ero stata maliziosa, devo dire. In realtà ammetto che anche io ho avuto delle difficoltà a capire come utilizzare questa palette, che è peraltro la palette con cui ho realizzato il trucco di oggi e per il quale potete vedere già quali sono i problemi che ho avuto. E cioè che questa palette è talmente tanto pigmentata da far sì che gli ombretti siano in qualche modo più spessi anche di quelli che solitamente sono, come dire, gli ombretti di Melt e quindi diventano ancora più difficili da utilizzare. Io ho fatto diverse prove, ho fatto senza base, con una base più cremosa, con una base più secchina, mettendoli, sfumando, diciamo, gli ombretti come faccio di solito con gli ombretti di Melt, cioè picchiettando con il colore un po' carico oppure con il colore un po' più scarico, oppure invece usando la tecnica tradizionale che è quella che ho usato oggi, cioè sfumando leggermente gli ombretti con un tocco leggero, un pennello molto poco denso, un pennello proprio da sfumatura. E devo dire che comunque questa palette sul mio occhio, sulla mia palpebra, ha dei problemi. Problemi che ha solo questa palette, però, attenzione, e non tutte le altre quattro palette che ho di Melt, con le quali invece mi trovo molto bene e la quale formula apprezzo particolarmente. Dunque, il metodo migliore, secondo me, per utilizzare questi ombretti è con una mano molto leggera, con una sfumatura di quelle, diciamo, classiche, quindi è un po' a tergicristallo, così come mi piace chiamarla, e la mano molto, molto, molto leggera, cioè il pennello deve essere proprio sporco pochissimo, e con una base primer un po' potente. Ad esempio quella di Nars, che su di me funziona. Io di solito, diciamo, per le formule di Melt, le altre, preferisco una formula un pochino più cremosa, proprio perché gli ombretti sono talmente, insomma, al lato secchino, e quindi una base cremosa di solito gli è d'aiuto. Invece con questa ho notato che vuole una formula un pochino più secca, un pochino più in gel, come appunto quella di Nars. E in questa maniera, diciamo che, li riesco a far durare tutta la giornata, e comunque riesco ad apprezzare, come dire, questa formula, a farla funzionare. Non è ovviamente la formula che io preferisco di Melt, le altre sono molto più belle, però non sono comunque, sono comunque molto contenta, perché la storia colore è davvero stupenda, peraltro qui sembra, e anche dal vivo in realtà, sembra più fredda di quello che poi risulta sui miei occhi, dove le tonalità si scaldano un pochino, e diventano proprio le mie tonalità, cioè mi piacciono veramente tanto. Un'altra piccola critica che posso muovere a questa palette, è che in realtà, sul mio occhio, quantomeno, il verde scuro e il blu scuro, una volta, secondo me, non sono così difficili. Così, scusate, diversi. Cioè, questo blu che sembra, così, abbastanza elettrico, qui dalla cialda, in realtà, poi sulla mia palbra diventa un pochino più spento, un pochino più scuro, e, diciamo, si avvicina molto di più, con un sottotono diverso, a questo verde scuro. Fatto sta che, allora, uno sono contentissima di averla comprata, perché va a finire, va a completare, la vita, il faccione della muerte, e quindi, con la vita, non potevo non averle entrambe. Quando non le userò più, perché sarà scaduto il pao, e voi sapete che io, dopo un po' le palette le archivio, faranno comunque una bellissima figura, perché io le terrò sempre in collezione, perché sono troppo belle. E, appunto, sono anche contenta, perché in realtà io questa l'ho pagata, 25 euro, mi pare, o 30, non mi ricordo se 25 o 30 dollari, sì, credo 25, perché il bundle poi delle Gemini era a 30, e, peraltro, siccome non arrivava, me ne hanno spedita un'altra da Melt, Melt ha un servizio cliente, devo dire, veramente eccezionale, e la palette ci ha messo due mesi ad arrivare, solo a me, è un problema solo mio, perché a tante persone è arrivata nel giro di 10 giorni, tranquillamente, e senza pagare dogana, neanche io l'ho pagata, in entrambi gli ordini. Comunque, quando erano due mesi che non arrivava, io ho scritto a Melt, ho detto, guardate, io ho pure yeso alle poste, ma qui il pacchetto sembra perduto, e lei e loro mi hanno risposto, non ti preoccupare, te la rimandiamo. Quindi alla fine me ne sono arrivate due, una l'ho regalata, l'ho data, ma l'ho regalata, come dire, ce le siamo divise da cari amiche, con Scarlett Diva Makeup, juicy, e quindi, no, sono molto contenta comunque di averla avuta, però devo dire che questa, rispetto alle altre palette di Melt, ha delle difficoltà in più. Devo dire che è bocciata? Allora, devo dire che è bocciata, nel senso che su di me, la principale caratteristica, il principale problema è che mi entra nelle pieghe, qualsiasi tipo di applicazione io faccia, però io non ce la faccio a bocciarla, perché per me questa storia di colore è troppo bella, il packaging è troppo bello, e quindi formula non ci piace, però tutto quanto concept, bellissimo, e secondo me comprata 25 dollari, onestamente, senza dogana, senza spese di spedizione, onestamente, secondo me li vale, nonostante questi problemi, e quindi, vabbè, non sono per nulla, per nulla pentita, e comunque continuerò a testarla, se riesco a trovare una, a trovare la quadra, e a concludere, con un metodo di applicazione, che mi convince veramente, ve lo faccio sapere, e vi dico poi cosa ho, come l'ho utilizzata, altro prodotto, che è, è stato in heavy rotation, in questo periodo, è il 4 in 1 Glow Makeup Perfector, di Maybelline New York, questo dovrebbe essere, primer, concealer, highlighter, e BB cream, allora, io, la prima volta che l'ho usato, proprio le primissime volte, che giravo questo, che ho girato il, ehm, sifter, qui il coso, per far uscire il prodotto, è, vabbè, non so se avete presente, il famosissimo anti-age, concealer, di, makeup, eh, age eraser, vabbè, in base a come lo, il cancella età, ecco, in italiano era il cancella età, di, di questa linea, era uno dei miei correttori preferiti, è stato uno dei miei correttori preferiti, di sempre, e, e, e quindi ero molto curiosa, di vedere questo nuovo prodotto, che cos'è questo nuovo prodotto? Lo faccio vedere da qui, è un prodotto, che, in pratica, fa, da BB cream, appunto, highlight, è una specie di dupe, molto più casereccio, di, eh, dell'Hollywood Flores Filter, di Charlotte Tilbury, che io, non ho mai provato, allora, io non pensavo, che questo prodotto, mi potrebbe, mi sarebbe piaciuto, perché, appunto, è molto, eh, è molto, è molto luminoso, e non solo, dicevo, quando io l'ho aperto, per la prima volta, ho fatto girare questa, questo applicatore, questo dispenser, per la prima volta, la prima cosa, che è venuta su, è stato un siero, lattiginoso, brillantinoso, molto illuminante, molto, molto riflettente, ho detto, oddio, qui, non andrà mai bene, per me, e invece, no, invece, mi piace da morire, mi piace tantissimo, perché, perché, è una base leggera, quindi, io quando vado di corsa, e magari, sono in quelle giornate, in cui, non ho bisogno del massimo, della coprenza, non devo fare chissà che, io metto solo questo, fisso, il, la zona T, e le zone che voglio, un pochino più, opacizzate, ci metto un po' di cipria, e loro si opacizzano, e poi, lui, un po' si autosetta, un po' da questo glow, così, molto naturale, molto bello, va bene anche, sulla mia pelle, mista, è quello che ho, oggi, vedete, che non è che copre, chissà quanto, non è che copra, chissà quanto, però, copre il giusto, per cui, io mi ci sento a mio agio, comunque, e ci vado in giro, senza problemi, va bene anche, per le pelli, miste come la mia, perché, è, in pratica, autosettante, appunto, io, lo setto solo dove, voglio, che rimanga un po' più opaco, quindi, in pratica, qui, sul naso, sulla fronte, un po' sul mento, però, per il resto, rimane lì, dov'è, quando lo mettete, e come vedete, io, è relativamente poco, che lo sto usando, perché, come sapete, volevo finire tutti, come forse sapete, se avete visto i video, sui progetti smaltimento, volevo finire tutti, i fondotinta, del progetto smaltimento, dell'anno scorso, e di quest'anno, prima di iniziare cose nuove, quindi, sarà, secondo me, da metà, da metà gennaio, che io lo uso questo, e già, sta così, per cui, questo per farvi capire, quanto lo sto usando, e quanto mi sta piacendo, non me l'aspettavo, è stata davvero, una scoperta, io devo dire, che con i prodotti, per la base, e con i prodotti, sì, con i prodotti, per la base, di Maybelline, io mi trovo, veramente, sempre molto bene, trovo che sia, un ottimo rapporto, qualità prezzo, e anche, che siano dei prodotti, che sono buoni in sé, a prescindere dal prezzo, invece, non mi sto trovando, per niente bene, bene, vabbè, per niente bene, esagerato, però, non mi sta piacendo, particolarmente, questo qui, il Clinique, Even Better Clinical, Serum, Clinical, Serum Foundation, la colorazione, 08, linen, faccio vedere così, qual è la consistenza, è questa, allora, sulla carta, non sarebbe male, perché, è uno di quei prodotti, che sono, a metà, insomma, hanno anche attivi, di skin care, la coprenza, è abbastanza alta, da, insomma, non dispiacere a me, che ho, diverse cose, da coprire, dovrei, pensavo, che fosse idratante, in realtà, non lo è particolarmente, ma soprattutto, pensavo, che fosse, un pochino, più, elastico, e un pochino, più, leggero, di quello, che in realtà, non è, lo trovo, piuttosto pesante, in realtà, trovo, che sia, che non sia, particolarmente elastico, quindi, non rimanga, cioè, che, non voglio dire, che si crepa, perché la mia pelle, non glielo permette, di creparsi, perché, è una pelle mista, quindi, non ha delle zone, così tanto secche, da poter, da poter farsi, che il, che il, fondotinta, si crepi, però, per esempio, quando sono, un pochino, screpolata, perché, magari, sono raffreddata, oppure, quando ho delle imperfezioni, sapete, quando i brufoli, diventano, un po' secchini, intorno, non so, se avete presente, che si creano, delle pellicine, a volte, intorno, a chi ha avuto l'acne, o chi ha l'acne, purtroppo, lo saprà, ci sono delle zone, più secche, proprio intorno, al, al fondotinta, ah sì, al brufolo, e questo fondotinta, non mi piace, come si comporta, in quelle zone, e in più, è spesso, non è una di queste, tecnologie innovative, nuove, che si trovano, ormai ce ne sono un milione, che rimangono leggere, si vede, è un po', molto, percepibile, sulla pelle, non è un problema, nel senso che, non mi piace, talmente tanto, cioè, è un problema, talmente grosso, che non lo uso, no, lo sto usando, lo finirò, senza nessunissimo problema, il colore, va benissimo, per me, finalmente, non mi fa impazzire, ho anche provato, a mischiarlo, con altri prodotti, per esempio, con un illuminante, per, perché, per renderlo, leggermente, più gestibile, anche leggermente, più, elastico, e, non ha funzionato, benissimo, non si mischia, benissimo, è andata meglio, quando l'ho miscelato, con, un primer, idratante, però, comunque, non mi ha fatto impazzire, del tutto, e, quindi, secondo me, insomma, mi aspettavo di più, da questo prodotto, che era stato, molto decantato, e, che doveva avere, questa consistenza, insieme, in realtà, come avete visto, è, una cremina, e, e poi, si ossida, anche un pochino, il colore, vi dicevo, va abbastanza bene, per me, però, se io potessi, scegliere, vedete, ve lo faccio vedere qua, che così, se io potessi, avere una cosa, ancora un pelo più chiara, non mi dispiacerebbe, comunque, cioè, o, quantomeno, se rimanesse così chiaro, come adesso, sul mio mento, mi piacerebbe, di più, quindi, niente, questo è quello che avevo da dire, sul clinical, sul Live and Better clinical, di Clinique, Poi, un altro pezzo forte, di cui vi volevo parlare, è la Yaluronic Hydra Powder, di By Terry, questa è la nuova versione, 8x, 8x, Hyaluronic Acid Types, con 8 tipologie, di acido, ialuronico, e, il, la colorazione, trasparente, allora, vediamo se riesco a farvi vedere, qual è il problema di questa, non so se si è visto, è polverosissima, ma, talmente polverosa, che se voi non fate attenzione, quando la prelevate, a scaricare, ultra bene, il pennello, con cui la mettete, rischiate di farvi, la faccia, come se ci aveste messo, il bordo alco sopra, e, quindi, poi, siete costretti, magari, a spruzzare, qualche spray, qualche spray, di quelli fissanti, o qualcosa, per togliere questa polverosità, in sé per sé, la polvere è molto bella, però, appunto, dosarla, soprattutto, con questo, ehm, questa, questo dosatore, diciamo, che ne fa uscire moltissima, e, e il fatto che è così micronizzata, così, bella in realtà, la, la polvere, eh, però, appunto, sto avendo, non sto avendo problemi, però, ho dovuto, imparare, in qualche modo, ad utilizzarla, perché, insomma, c'è stato, un po' data, da prenderci la mano, ecco, diciamo così, ultimi due prodotti, di cui vi parlo, ultime due, una categoria, e un prodotto, nello specifico, vengono, sono stati riscoperti, dopo il decluttering labbra, che ho fatto, eh, appunto, in questo periodo, in queste settimane, eh, la cosa bella, del decluttering, è che ti permette, del ridurre, come dire, il volume, della propria collezione, è che permette, davvero, di utilizzare bene, i prodotti, che uno ha, e così, io, in questo periodo, sto riscoprendo, due prodotti, che mi erano sempre piaciuti, ma che ho usato, molto poco, eh, che sono, le matite, di MAC, e io, in particolare, ho, Brick, che è questa, Spice, che è questa, e Chicory, che è questa, quindi, Brick, Spice, e Chicory, e, sono, delle formule, che mi piacciono molto, non sono, troppo morbide, né, troppo secche, eh, sono molto long lasting, sulle mie labbra, veramente belle, quando ho fatto, il decluttering, questa l'avevo trovata, eh, questa che è, Spice, l'avevo trovata, come leggermente, ossidata, l'ho temperata, devo dire che in realtà, non ha nessun problema, chiaramente, la cercherò di utilizzare, più velocemente, di non dimenticarmela più, eh, nella collezione, come, come avevo fatto, sbagliando, tutto l'anno scorso, in cui non l'ho usata, neanche una volta, pensate, eh, però, sono delle, è una formula, che davvero mi piace molto, e penso che quando finiranno, quando finirò, le mie, eh, matite, cosa che vorrei fare, ehm, cioè, vorrei arrivare ad avere, una, due massimo, matite labbra, che poi sono quelle, che uso di più, eh, penso che, le ricomprerò molto volentieri, queste, insieme alle, pastalo labbra, di, Neve Cosmetics, sono le mie due, ehm, matite labbra preferite, e un'altra cosa, che sto usando, abbastanza spesso, è questo, gloss topper, in realtà, olografico, di LA Girl, è un gloss topper, molto divertente, perché è fatto, così, è proprio, olografico, vediamo se riesco, farvi vedere, sì, si vede, vedete che riflesso, un po' strano, cangiante, allora, è molto bello, è molto più portabile, di quello che, potrebbe sembrare, guardandolo così, dallo swatch, swatch, perché, poi, sulle labbra, dà semplicemente, una bellissima, cangianza, e, e anche, i brillantini, che, si vedono, dallo swatch, in realtà, quando sono, sulle labbra, diventano, molto belli, molto portabili, danno solo, veramente, una riflettenza, molto bella, lo sto usando, con grande piacere, ma, nell'usarlo, per giorni, più giorni consecutivi, mi sono resa conto, che questo, un pochino secca, le labbra, quindi, invece di essere, un gloss, di quelli, che, in qualche modo, dà anche un tocco, di tratazione, questo, un po', portato, troppi giorni di seguito, lo sentite, che le labbra, sono un po', sofferenti, non è niente di che, niente che, una buona maschera labbra, o che, usarlo un po', più saltuariamente, non possa risolvere, però, effettivamente, è una cosa da segnalare, ad ogni modo, mi piace molto, e, conterò di finirlo, anche questo, sta diventando, uno dei prodotti, più antichi, della mia collezione, quindi, toccherà, che mi sbrighi, a finirlo, questi, erano tutti i prodotti, che ho scelto, per levi rotation, tutti quelli, che ho utilizzato, di più, più spesso, in questo periodo, e di cui, mi sentivo, di parlarvi, per farvi, una recensione, per darvi un aggiornamento, su come li sto usando, e, spero che questo video, vi sia piaciuto, devo ringraziare Carolina, perché è veramente, un format molto carino, fatemi sapere, se avete provato, qualcuno di questi prodotti, e che cosa pensate, di quello che, che vi ho raccontato, in questo video, in questo video, e, e niente, se il video vi è piaciuto, mettete like, se io vi sono simpatica, iscrivetevi al canale, iscrivetevi, iscrivetevi al canale, e se vi va, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!